Architetture fortificate nel paesaggio agrario della Calabria. Un volume importante è quello della professoressa Francesca Martorano, docente dell'Università di Reggio Calabria, presentato a Crotone, nella sede del Rotary. Il materiale contenuto nel volume ha un carattere innovativo perché rivolge l'attenzione alle architetture fortificate in territorio agricolo, tema non ancora compiutamente approfondito nella regione. Sono indagate quattro aree, il comprensorio cosentino, l'alto ionio calabrese, il comprensorio ionico meridionale e l'area del versante ionico vibonese, di cui sono esaminate architetture dimenticate, il cui 3D Union consiste nella fortificazione, da riferire alla presenza negli edifici, di elementi morfologicamente legati alla difesa. Si parte dalle torri fondiarie silane, seguite dalla masserie fortificate dell'alto ionio calabrese, dalle residenze fortificate dell'antico circondario di Geraceo, per chiudere con la rocchetta di Briatico nel Vibonese. Di presentare le fortificazioni che poi hanno avuto una seconda vita nei secoli e soprattutto le fortificazioni legate al paesaggio agrario, in modo da stimolare coloro che vogliono conoscere il territorio a una visione diversa delle architetture e creare delle reti e dei percorsi di conoscenza di tipo diverso, perché non ci siamo orientati verso i grandi complessi, ma degli esempi inediti, nella qualsiasi totalità, che sono distribuiti sul territorio e che possono attirare il turista nel territorio. Quindi conoscenza verso l'architettura, ma anche conoscenza del territorio calabrese.